Buonasera a tutti e tutte, siamo qua stasera con Fabio Mengali che non ha bisogno di presentazioni e un nostro compagno che attualmente vive e fa ricerca a Barcellona che ha da poco pubblicato un libro che si chiama Di cosa parliamo quando parliamo di Trump. Abbiamo anche altri due ospiti che sono Emiliano Ilardi e Fabio Tarzia, anche loro si occupano di Trump, hanno scritto un libro edito da Manifesto Libri che si intitola Trump, un puritano alla Casa Bianca. Come vedete il tema del dibattito è abbastanza noto ed è un tema che come fatto politico abbiamo analizzato in diverse sfaccettature in queste settimane di dibattiti allo Sherwood Festival, ma l'abbiamo analizzato dal punto di vista economico, rispetto alla questione del protezionismo, quella finta dicotomia tra protezionismo e liberismo che è l'elezione di Trump ha posto nel dibattito pubblico. L'abbiamo analizzato con alcuni ospiti che provengono direttamente da una delle battaglie centrali in questo momento in America, quella di Standing Rock, ossia contro l'oleodotto del Sud Dakota. Questa sera proviamo ad affrontare il tema in un'ottica un po' più complessiva, cercando di entrare nelle viscere del fenomeno Trump. Io proverei a fare una domanda ai nostri ospiti che riguarda sostanzialmente le motivazioni che hanno di fatto segnato questo fatto, questo evento politico che si è imposto non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. In tanti l'hanno letto un po' come un'anomalia, come un fatto assestante all'interno del contesto statunitense. In realtà alcune letture fanno emergere delle problematiche che vengono da lontano, ossia il fatto che dietro l'elezione di Trump, dietro il consenso che comunque ha ottenuto il neopresidente degli Stati Uniti, ci fosse quel revancismo che veniva dalla tradizione americana dell'uomo bianco americano di una classe media, della borghesia media americano che comunque in un certo senso ha segnato una reazione rispetto a 40 anni di una stagione che è durata per alcuni decenni, di conquiste da parte delle classi subalterne. Questo può essere una lettura del fenomeno Trump e come riusciamo poi a collocarla nel contesto attuale statunitense. Io farei un giro di interventi... Grazie, magari comincio io a dire qualcosa in riferimento a quello che tu hai appena detto, cioè al fatto che Trump per certi versi è qualche cosa di nuovo perché non era mai successo prima che un individuo che proviene dall'esterno dell'establishment sia politico che militare sia diventato presidente, no? Ecco, questa è una cosa abbastanza anomala, però non è altrettanto anomalo il sistema culturale e mentale che Trump rappresenta. Non è qualche cosa di rivoluzionario che spezza una tradizione. Trump appartiene ad una tradizione specifica che è quella fondativa dell'America che bene o male siamo costretti ad ammettere. Quello che noi definiamo nel nostro libro puritanesimo. Puritanesimo è forse un termine che lascia perplessi di fronte a un individuo che come sappiamo di morale ha ben poco, nel senso che la stessa costruzione del personaggio Trump è la costruzione di un personaggio un po' borderline, no? Il puritanesimo noi lo immaginiamo come una struttura religiosa sostanzialmente, no? Quella che viene dal protestantesimo e dal calvinismo e lo è originariamente. Ma innanzitutto il puritanesimo è una struttura mentale e culturale, una struttura mentale che fonda gli Stati Uniti d'America. Molte delle caratteristiche di Trump si rifanno esattamente a questa struttura mentale e culturale. Pensate soltanto al fatto, a come si sia presentato Trump, come un qualche cosa che è completamente estraneo rispetto al mondo politico, anzi qualche cosa che si oppone al mondo politico e dalla parte del popolo. Ebbene, la politica nel puritanesimo è qualche cosa che viene naturalmente vista in maniera negativa. Nel senso che la politica, così come la conosciamo in Europa come arte della mediazione, in America funziona molto meno, proprio perché il sistema puritano è un sistema che non accetta mediazioni. Non a caso il puritanesimo e il calvinismo nascono in opposizione alla Chiesa Cattolica, cioè alla più grande struttura di mediazione della storia dell'Occidente, probabilmente. Il puritanesimo distingue nettamente tra bene e male. non prevede dei sistemi intermedi di purificazione, il purgatorio ad esempio, non c'è nel sistema mentale, religioso, puritano. Quindi si può essere da una parte o dall'altra, ma i sistemi di mediazione non vengono contemplati. La politica quindi è un sistema perverso, sostanzialmente, per questa struttura mentale così profonda e diffusa. e la distinzione deve essere netta tra bene e male. Faccio soltanto un esempio, il sistema politico americano è uno dei pochi che mantenga ancora due forze politiche, due partiti, repubblicano e democratico. In tutto il resto d'Europa, dell'Occidente, questa struttura sta avvenendo meno. pensiamo all'Inghilterra che pure l'ha fondato, insomma, no? Ecco, questo sistema rispecchia ancora un sistema mentale molto forte che è difficile da scardinare. In questo senso, Trump non è per niente qualche cosa di rivoluzionario, ma è, chiaramente, rivoluzionario nel senso di rottura di una tradizione, ma, anzi, rispecchia perfettamente quella tradizione. Il sistema americano si basa su due strutture mentali fondamentali, quella del puritanesimo e quella della frontiera, quella del controllo, della vigilanza e quella dell'apertura verso nuovi spazi. Quando, secondo la nostra tesi, l'apertura verso questi nuovi spazi, che comunque era stata proposta dall'inquilino della Casa Bianca precedente, seppure in maniera specifica e particolare, quando questa apertura si chiude, normalmente il senso di vigilanza, di controllo, di settorializzazione, di categorizzazione del nemico, soprattutto, pensate soltanto a tutte le categorie che Trump introduce, no? Dai neri ai musulmani a tutti gli altri, che diventano delle vere e proprie categorie di nemici interne alla nazione, questo sistema mentale di controllo riemerge come fondamentale struttura di consolidamento di una identità. Quello che noi mettiamo in luce nel nostro testo, che naturalmente è uno dei tipi, delle possibili letture del fenomeno, è esattamente una lettura di carattere antropologico, identitario, culturale, un elemento fondamentale in questo tipo di fenomeni. Completo rapidamente, anche per rispondere in parte alla domanda che è stata fatta, sulla questione maschio-bianco, che ovviamente anche lì è la struttura puritana fondamentale, e anche rifacendomi al libro di Fabio Mengali, che riporta, il libro di Fabio è interessantissimo, perché ha tradotto praticamente tutti gli interventi, o quasi tutti gli interventi di Trump, fatti nell'anno e mezzo prima della sua lezione, ed è, non so come ha fatto tra l'altro a non suicidarsi, è la ripetizione degli stessi tre concetti, fondamentalmente fino alla paranoia, anche leggendolo, insomma, è entrata in una sorta di trip mentale, poi riasili sentendo le sue parole, e una delle cose interessanti è quando Trump risponde a Hillary Clinton che lo accusava appunto di sessismo, e Trump risponde dicendo, ecco, il vizio di Hillary Clinton e della gente come lei, radical chic, politicamente corretta, è dividere le persone e i cittadini in mucchi, cioè in categorie, ben precise. quindi il razzista, la sessofobia, l'omofobo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, come dire, la catalogazione, come diceva anche Fabio, è una struttura mentale americana da sempre, cioè l'America cataloga continuamente da sempre tutte le persone e essenzialmente il popolo, soprattutto quando termina la frontiera come spazio di mediazione del conflitto. pensate al Novecento, l'America è da sempre ossessionata da classifiche, checklist, standard, pensate solo allo sport, a quanto loro devono continuamente classificare qualsiasi elemento. Perfino il politicamente corretto, per certi versi, è eccessivo in America, quello diciamo così, dalla parte sinistra, dello scacchiere, rispetto a quanto, insomma, siamo abituati in Europa. Ogni identità, ogni radice, ogni origine è classificata in una maniera ben precisa. In realtà, che cosa fa Trump? Oppone alla classificazione del politicamente corretto tradizionale il suo, la sua classificazione del popolo basata sulla catalogazione del nemico, su paradigmi molto più semplici, l'immigrato, il musulmano, ciò che è americano, ciò che non è americano. Però non è che non ci siano, e questo magari è un tema di discussione, un'ossessione per la catalogazione in generale nella cultura americana, una catalogazione che c'è anche nello spazio, le città americane sono perfettamente catalogate spazialmente, questo Mike Davis, in un famoso libro che era Città di Quarzo, lo fece vedere benissimo, a Los Angeles, con le autostrade che tagliano perfettamente i quartieri su base etnica o censitaria, il grattacielo è una forma di catalogazione, tutte le forme del consumo sono forme di catalogazione della folla indistinta, che è il massimo nemico dell'America, la paura per la folla indistinta, è uno dei massimi nemici, quindi la folla va catalogata ai sportivi consumatori, eccetera, eccetera, noi facciamo esempi nel libro l'esplosione della psichiatria eccessiva anche lì alla fine degli anni 70 per catalogare ogni forma di devianza possibile e curarla poi con gli psicofarmaci, e questo fa parte anche della questione della... Quindi c'è un immaginario che produce catalogazione, in questo caso, e magari questo è il tema della discussione, la catalogazione di Trump sconfigge la catalogazione, la classificazione dello spazio e delle persone che ha prodotto invece, che ha promosso Hillary Clinton e l'area culturale di cui essa fa parte. Sì, appunto, diciamo, il mio poi istinto di sopravvivenza nel dover lavorare con le parole dirette pronunciate da Trump si è basato fondamentalmente sul come rendere le sue stesse parole strumento di analisi e di interpretazione del fenomeno, e quindi strumento di analisi funzionale a un superamento, a, diciamo, uno scardinamento, o comunque sia a fornire degli utili strumenti per poter per poter sconfiggere il trampismo, se così possiamo chiamarlo. Forse è una definizione azzardata, però potremmo chiamarlo proprio in questa maniera. E rispetto a la domanda che faceva Antonio e a quanto è stato detto finora, effettivamente molte analisi, soprattutto immediatamente successive alle elezioni di Trump nel novembre scorso, si sono soffermate sulla particolarità della vittoria di Trump e quindi sul fatto che fosse un evento assolutamente incomprensibile, tutti i sondaggi lo davano per sconfitto, l'America delle metropoli, l'America liberale, progressista, avrebbe sicuramente risposto a un personaggio che si era fatto conoscere durante la campagna elettorale appunto per la sua mancanza di Politically Correct, per le continue offese che rivolgeva agli avversari, per anche diciamo la sua capacità di innervosirsi facilmente durante le interviste che gli venivano rivolte, che sicuramente non è una delle tattiche retoriche più funzionali per poter vincere una competizione elettorale. Ma proprio tramite le sue parole, tramite le sue strategie retoriche, tramite la sua grammatica, Trump è riuscito a vincere fondandosi appunto su questo retaggio culturale derivante dal puritanesimo e anche su una situazione contingente che si stava dando negli Stati Uniti che è appunto quella che è stata conseguenza degli ultimi otto anni. Sappiamo benissimo che negli Stati Uniti nel 2007 c'è stata la crisi dei mutui subprime, sappiamo benissimo che ci sono state delle politiche, delle misure economiche che almeno nei primi anni sono andate verso una nazionalizzazione dei debiti contratti dalle banche e di conseguenza una riduzione ancora più ossica e ancora più profonda di quell'accenno di welfare state che esiste negli Stati Uniti, quindi c'è stato un impoverimento diciamo generalizzato. Ma soprattutto andando anche al di là del punto di vista economico c'è stata proprio la rottura di un orizzonte d'aspettativa che era stato creato in decenni nella società americana che era quello dell'American Dream era quello appunto della possibilità dell'America in quanto territorio che permette a tutti di coronare il proprio sogno attraverso ovviamente il duro lavoro e anche qui ci ricolleghiamo a una matrice indubbiamente puritana e tramite il duro lavoro appunto arrivare al successo e quindi aspirare ad uno sviluppo ad un progresso illimitato infinito questa cosa si è rotta a causa delle varie crisi non parliamo solo appunto di crisi economica parliamo anche di crisi ambientale parliamo di crisi degli istituti di cittadinanza con appunto questa presenza molto forte e anche molto etnicizzata dei migranti che appunto Fabio Emiliano descrivono molto bene nel loro saggio insomma tutta questa diciamo questo agglomerato di crisi ha prodotto poi che ci fosse l'elezione di Trump questo perché perché Trump in un certo modo riabilitava la possibilità di poter affermare di nuovo il sogno americano come dicendo American first quindi prima l'America il sogno americano è possibile ma solo per quelli che sono considerati statunitensi o per sangue oppure perché naturalizzati da molto tempo quindi assolutamente nessuna estensione della cittadinanza ai nuovi arrivati che siano europei ma soprattutto che siano diciamo latini oppure provenienti dal Messico il Messico è un suo grande è un suo grande bersaglio non si stanca mai di metterlo dalla parte della scacchiera diciamo dei nemici e attraverso appunto questa e queste leve Trump è riuscito a rappresentare di nuovo tutti questi tutti questi canoni culturali che sono dei canoni culturali che effettivamente hanno però in contraddizione con la stessa accusa che lui ha mossa alla Clinton diviso ulteriormente la cittadinanza americana perché sappiamo benissimo che la cittadinanza americana soprattutto nei grandi centri urbani e nelle metropoli è una cittadinanza fortemente meticcia fortemente ibridata fortemente contaminata dalle differenze Trump in effetti non ha fatto altro che spostare diciamo un baricentro del conflitto oltre che dal basso verso l'alto quindi diciamo identificando il nemico nei corpi degli appartenenti alle lobby finanziarie di Wall Street che appunto hanno causato la crisi dei mutui subprime e tutte le politiche economiche recessive è riuscito a spostare un'altra metà del baricentro verso il basso e quindi è riuscito a dire sì è colpa delle elite dominanti delle elite finanziarie delle elite globaliste e neoliberali ma è colpa anche di tutti coloro che stanno impedendo il coronamento di questo sogno americano che appunto sono quelli che non riescono a rappresentare il canone dell'uomo bianco dell'uomo bianco eterosessuale che lavora duramente che appunto riesce a gestire da solo i propri tempi e la propria attività e la propria attività economica e tutto questo si può vedere anche tramite degli studi statistici e sociologici che sono stati fatti sul tipo di elettorato Trump è stato votato prevalentemente dai maschi bianchi è stato votato da persone che appartengono alla cosiddetta classe media oppure anche dagli ultramiliardari questo giusto per creare un altro cortocircuito rispetto al fatto che lui non rappresentasse in nessun modo l'elite è stato votato anche da persone che hanno studiato quindi di nuovo contro le interpretazioni molto rapide e fugaci che sono state fatte dopo le elezioni non è vero che Trump è stato lo strumento della classe operaia per imporre di nuovo la propria voce all'interno della rappresentanza Trump è stato votato appunto dai maschi che hanno fatto degli studi per quanto non studi di alto livello però comunque hanno una conoscenza un patrimonio culturale perfettamente nella media ed è stato votato soprattutto da coloro che non vivono nelle metropoli la maggior parte dei neri dei latini delle donne non bianche anche qua hanno invece preferito Hillary Clinton quindi da questo punto di vista possiamo ben vedere come effettivamente Trump non sia un fulmine a ciel sereno lo è per alcuni versi e magari poi nel corso del dibattito ci ritorniamo ma per altri è stata la logica conseguenza di decenni di cultura e di immaginario simbolico e anni diciamo di gestione della crisi e di ricerca di alternative appunto alla demolizione di questo sogno del futuro americano di di Grazie.